Dove sono finita? Aia, aia, questo c'è spuglia, mi fa tantissimo male, au, au, au Che strano posto è Dove mi trovo? Non sono più in Egitto? Io, viveriano, regina d'Egitto, non mi trovo in Egitto? Ma dov'è la sabbia? Nelle mie città, di solito, per terra è tutto pieno di sabbia Mentre qui c'è questo strano materiale duro e rovente Che fastidio! Ma come si fa a camminare qui? Aia, che dolore, au, au, au Non capisco Dove mi trovo? E cos'è questa scritta? Ma come scrivono? Io conosco i geraglifici, non conosco mica queste lettere Non so, vabbè, andiamo avanti Ci sarà un modo per tornare a casa mia? Ehi, 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 ma cos'è questo? C'è tantissima confusione, tantissimi colori Io sono abituato a vedere un solo colore Il giallo ocro, che è il colore più bello di tutti Perché? Sapete perché? Perché è simile al dorato, il colore dell'oro E io amo le mie ricchezze E questo invece è tutto così colorato Non avevo mai visto così tanti colori Au, au, ho smattuto contro questo coso Cos'è questo strano tubo alto? E qui ci sono tante cose strane Tutte messe e ammucchiate insieme Ah, guardate, c'è un oasi Posso bere l'acqua? Ma è disgustosa A che acqua ci hanno messo? Sa di chimico Devo uscire da questo posto Aiuto, aiuto, qualcuno mi salvi Schiavi? Schiavi? Venite qui? Ehi, ma dove sono finiti i miei schiavi? Io? Miperiana? Regino d'Egitto? Senza schiavi? Non ci sono mai stata? No, schiavi? Dove siete? Forse vi siete nascosti? A voi piace giocare al mio scommino? A me no Sapete cosa vi farò quando vi troverò? Vi richiederò con i miei coccodrilli Sono sicura che in tutta questa storia C'entrano quei due mocciosi di suo figlio e lui Stupidi babbei Avevano creduto che io Li avrei fatti diventare il re e la regina d'Egitto Se lo sognano Sono riusciti a scappare dalle mie prigioni Ma come hanno fatto? E adesso, attraverso quel barco spazio temporale Sono finita qui In un'epoca che non mi appartiene Ma io li troverò Mi ritroverò Sono sicura Sono qui dentro Me lo sento Non so cosa ci sia scritto in quell'insegno Ma sono sicura che sono qui Ah, mocciosetti Mi state nascondendo Guardate che mi troverò Dove siete finiti? Qui dietro per caso? Ehi Sono tornata a dovevo prima È tutto così strano qui Ma cosa sono tutti questi blocchi di cemento A destra e a sinistra? Questi alberi Queste strade Queste insegne luminose Mi stanno facendo venire un mal di testa Mi devo fermare un attimo Mi devo fermare Mi devo fermare Se vi trovo ragazzi Non avete idea di cosa vi faccio Guardate per esempio Lì su Si è accesa quella spia rossa Io me ne sono accorta eh Non sono mica scema Io non ci passo da lì Perché sono sicura che è una trappola Come io ho fatto le trappole a Sophie e Louis Sono sicura che loro adesso Nel loro mondo Vorranno fare le trappole a me Ma sapete Io sono più intelligente di voi Io non finirò nella vostra trappola Anzi vi troverò E poi riderò Sono sicura che è questa casa vostra Vi ho scoperto Vi ho scoperto O-spu-tu-le Non so leggere Non so leggere Che fastidio Che fastidio Ma perché non scrivono in geroglifici? Perché scrivono con queste stupide lettere? Devo andare in un posto dove gli schiavi mi insegnano come si legge Ed è davvero fastidioso non saper leggere Siete qua dentro? Siete qua dentro? Questa è casa vostra? Ah guardate qui c'è un letto Sembra proprio un letto del presente Secondo me questa è la loro stanza E sapete cosa farò adesso? Metterò tutto in disordine Ah 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 Guardate guardate cosa faccio Oh mi carico nel vostro letto Io liberi alla regina d'Egitto Sono la regina di casa vostra E appena Sophie e Louis entreranno qui dentro Cosa vedranno? Beh che dormo nel loro stupido letto Che è scomodissimo Io sono abituata a dormire in letti Molto più comodi Perché sono fatti con la paglia Il cotone E poi sopra c'è l'oro E gli schiavi che mi sventolano a destra e a sinistra Mentre qui c'è dell'aria Freddissima Ma da dove arriva? È come se ci fosse un qualcosa che emana aria Sarà una trappola anche questa Avranno messo delle pompe che emanano aria freddissima Per farmi venire uno shock termico Non finirò nella vostra trappola E quindi esco Dove siete? Dove siete? Vi troverò Starete sicuramente in quelle strade In quelle strade sporchissime Dove per terra ci sono tutte le cartacce Non vi dico che male hai i piedi Ma come fate a camminare qui? Oh guardate cosa ho trovato La cucina Questa qui sembra proprio una cucina Magari potrei preparare un dolcetto avvelenato Da dare a Sophie e Louis? Io non ho mai cucinato niente Ma sono sicura che non sarà così difficile Schiavi? Preparate un muffin avvelenato Mi devo abituare Non ci sono schiavi in questo mondo Noiosissimo Non ci sono schiavi Devo preparare tutto io Questo qui sembra un frigorifero E questo qui sembra un lavandino di acqua Mi lavo le mani L'acqua fredda L'acqua freddissima Oh mamma mia Mamma mia Non posso mica rimanere qui Se mi vedranno in questo mondo Probabilmente mi cattureranno Io sono abituata a catturare gli altri Non permetterò mai a nessuno di catturare me Questa secondo me non è la loro casa Ho capito male Questo qui sarà una parte della città Che non c'entra niente Devo trovare la via con tutte le case E quello cos'è? Uno strano aggeggio con una elica? Sarà un'altra trappola Sarà un'altra trappola Non devo lasciarmi ristrarre Secondo me devo andare di lì Devo fare quella salita E dopo sono sicura che ci saranno i coccodrilli Con le case E magari troverò anche casa mia Ehi 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 Ragazzi Cosa vedo nei miei occhi? Viperiana è la più intelligente La più bella La più simpatica E soprattutto la più furba Guardate qui cosa c'è davanti a me Una casa E ok non saprò leggere questa scritta Ma so vedere quelle immagini Quello lì è proprio lui E allora ragazzi ho capito bene Questa qui è la casa di Sophie E lui Oh ma certo è stupida come loro Guardate tutta di cemento Che schifo Come va a piacere di una casa del genere Tutta grigia Senza neanche un minimo di oro In Egitto le case sono molto più belle Perché le facciamo soltanto di oro Gemme preziose Qui sono davvero terrificanti Sembrano le case stregate Oh e la porta si aperte anche da sola Questa casa è davvero stregata Cos'è questo strano quadro nero Con delle immagini Blah E' tutto così orribile Anche se questo divano E vuol dire che è comodo In Egitto abbiamo dei divani un po' più scomodi Ma non importa non importa Perché io vi troverò E vi riporterò in Egitto E poi anche voi rimpiangerete la vostra casa Questo qui cos'è? Uno strano aggeggio con uno blu Forse ci si mettono le cose da mangiare Le mele sono anche buone qui nel presente Sono proprio come quelle in Egitto Ma ora non è il momento di mangiare Perché io devo stare molto attenta alla mia linea Il mio corpo da modella Deve rimanere bello snello Non devo mica mangiare fuori i pasti E poi io mangio soltanto dei cibi selezionati Come per esempio il latte di cammello E i datteri d'Egitto Racconti dei miei schiavi Tutto quello che si trova in questa cucina Potrebbe essere frutto di una trappola E io viperiana che sono la più furba Non cadrò nel vostro tranello Sufio e lui E adesso andiamo di qua Cos'è questa porta? Una stanza tutta ricoperta da mattonelle Ma che strana stanza è? E questa è una strana piscina Piccolissima Come può una piscina essere così piccola? Avete mai visto le piscine d'Egitto? Sono gigantesche Ci si può nuotare Mentre qui ci puoi soltanto mettere i piedi Ridicolo E l'acqua? È bollente Au! 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 Noi in Egitto mettiamo l'acqua fredda per tonificare Meglio che esco Perché qui dentro non c'è nessuno E ho paura di rimanere bloccata E qui cosa c'è? Una scala senza passamano? Si rischia di cadere? Anche questa potrebbe essere una trappola Loro vogliono farmi cadere Ma voi non avete idea di con chi avete a che fare Guardate qui Gradino dopo gradino Salirò e non cadrò Guardate Pensavate che non ce la facessi? E invece Eccomi qua Sono riuscita a salire le scale senza cadere Sarò la migliore Ricordatevelo E adesso mi dispiace Mi cari soffi e lui Ma è giunto il vostro momento Vi ho trovato E sto per arrivare Siete qui? Un balcone E questo strano aggeggio? Oh Vedo tutto molto ravvicinato Ma come mai? Fammi dare un'occhiata Magari vedo soffi e lui Non c'è traccia Torno dentro Pensavo a per scappare E invece sono ancora qua Questa sarà la stanza della carciofina Questo strano letto rosa E poi qui c'è un altro aggeggio strano Tutto nero Se solo sapessi leggere Non capisco nulla di quello che c'è scritto Noi in Egitto scriviamo molto meglio Perché abbiamo i simboli che fanno capire quello che c'è scritto Se c'è un occhio significa di guardare Se c'è un coccodrino vuol dire che sei pericolo Mentre qui ci sono soltanto stupide lettere Che magari messe insieme faranno una frase Ma io non le capisco Non devo stare qui a perdere tempo Vi troverò Vi troverò E qua Anche questa stanza è vuota E qui c'è un'altra di queste stanze piena di mattonelle Ma che senso hanno? Io non capisco proprio Ma sapete che vi dico? Visto che voi non siete qui Sarete voi a provare me Vi farò una bella sorpresina Vi metterò nel vostro letto E mi riposerò Così quando arriverete Ops È arrivata Viperiana E ora ragazzi che seguite i miei contro te Dalla vostra Viperiana È tutto Vi mando un bacione E buonanotte E buonanotte